poco meno di 8 chilometri e mezzo per i runner 5 per gli amatori e mini percorsi per i bambini la Corrifano si prepara come ogni anno a chiudere la lunga estate CSI e ad accogliere la nuova stagione l'appuntamento per questo simbolico passaggio di consegne è come sempre nel quartiere di Gimarra dove sabato 16 settembre scatterà la 27esima edizione di un evento che assegnerà anche il titolo di campione regionale CSI Marche e che accoglierà non solo podisti da tutto il centro Italia ma anche tanti passeggiatori che alle 17 partiranno per una camminata di 5 chilometri tra le colline fanesi per un evento questo giunto alla settima edizione dedicato alla memoria di Andrea Borgogelli fanese tragicamente scomparso a giugno del 2019 qualche minuto più tardi poi bandiera scacchi per la gara principale che vedrà impegnati gli atleti per 8,4 chilometri tra saliscendi impegnativi e paesaggi suggestivi fino al traguardo finale dove saranno premiati i primi tre classificati delle 10 categorie previste premi anche per le tre società più numerose e per i primi donatori di sangue che taglieranno il traguardo ai quali Avis Fano consegnerà una targa ricordo anch'essa in onore di Andrea Borgogelli a far da prologo alla Corri Fano saranno le gare riservate agli under 18 con tre mini percorsi che prenderanno il via alle 16 mentre il buffet finale e le premiazioni metteranno il sigillo su un evento che come ogni anno richiamerà nel nostro territorio centinaia di sportivi alcuni impegnati nella ricerca del loro miglior tempo e altri semplicemente vogliosi di passeggiare tra le splendide colline fanesi per info e iscrizioni www.csifano.it